Ciao a tutti, sono Stefano del Retuna Team, equipaggio della Fishing Academy Cuisine e vi auguro i miei migliori auguri di buone feste e ci vediamo presto con le prossime viatture. Ciao ciao! Tanti auguri di buone feste a tutti, da Claudio Alberghini Maltoni e dalla Toscana, Team Gladiator, Fishing Academy Cuisine, buon anno e buon Natale! Io sono Bruno Nicetta, capitano del Sicily Fishing Charter, equipaggio della Fishing Academy Cuisine, volevo augurarvi buone feste e buon Natale, vi aspetto in Sicilia, ciao! Buon Natale dagli Chef del Mare e dalla Fishing Academy Cuisine! Sono Domenico Fugazzotto, volevo augurarvi buone feste a tutti quanti da parte mia e da Fishing Academy Cuisine! Buon Natale, buone feste e felice anno nuovo da parte di FV Sambuca e Fishing Academy Cuisine! Ci vediamo a bordo l'anno prossimo, mi raccomando! Fishing Academy Cuisine, vi auguro buone feste e buon Natale a tutti! Alla prossima! Sì! 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 Grazie a tutti.